Una commedia frizzante attuale che evidenzia con leggerezza e ironia situazioni e paradossi del quotidiano, mettendo a nudo le diverse visioni della vita di quattro donne, solo apparentemente diverse tra loro. Nella suggestiva location di Castello Bastione a Capodorlando, davanti a centinaia di spettatori entusiasti, ieri sera l'associazione Recitando e Parolando ha messo in scena la commedia Una ricetta per single. Una storia di amori che finiscono e lasciano single le quattro donne protagoniste, interpretate da Valentina Aglio, Elvira Rigoli, Maria Moli Calazzaro e Francesca Pietropaolo. Con l'arrivo del maschio, sulla scena Michele e Lucia, tra le amiche si scatena una vera e propria guerra, tra battute sagaci e briose, condite di umorismo e disincanto. Azzeccata e molto curata le scene e le luci, per una rappresentazione con la regia di Donatella Ingrillì, che ha ricordato molto i film di Pedro Almodovar. Si tratta di una commedia divertente, una commedia frizzante, in cui i personaggi, sono quattro donne e un uomo, scherzano, giocano un po' sulla loro vita. Però credo che uno degli aspetti che ha voluto mettere in evidenza l'autrice, Cinzia Berni, che ha scritto appunto Ricetta per Single, è la complessità della vita, cioè la difficoltà che abbiamo oggi in questa postmodernità e in questa dopo globalizzazione, nel bel mezzo della globalizzazione, di vivere i rapporti, di vivere le conflittualità, di capire esattamente cos'è l'amore, cos'è la vita e quindi ci ritroviamo quasi sempre, come questi cinque personaggi, a cercare qualcosa che non c'è, un po' a cercare Godot, se vogliamo. Tutto fatto con la passione e con veramente la volontà di fare teatro. Io ringrazio tutti i protagonisti di questa bellissima commedia, spero a tutti che sarà divertente, ci siamo divertiti noi, quindi sicuramente si divertirà anche il pubblico. L'associazione non porta avanti soltanto le problematiche relative alle donne, ma in generale tutti i problemi sociali del territorio. Dopo Filumena eccoci qua con Ricetta per Single.